Antonella Ballone è la nuova presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, l'ente camerale nato dalla fusione delle Camere di Teramo e l'Aquila. Eletta all'unanimità, Antonella Ballone è un'imprenditrice nel settore industria, Gruppo Baltur, e sarà alla guida dell'ente fino al 2025. 39 anni, già vicepresidente dell'ente Teramano, è la più giovane presidente di una Camera di Commercio in Italia, prima donna in Abruzzo ad assumere questo incarico e seconda in Italia. Come si troverà ad operare su questo vastissimo territorio? Partiamo subito innanzitutto, abbiamo credo l'idea abbastanza chiare, sicuramente la mission che abbiamo è una mission importante, perché entriamo in campo in un momento di crisi, se vogliamo, di pandemia, e quindi il nostro operato deve essere quello di affiancamento alle imprese, far sentire la nostra presenza con appunto tutto quello che è le risorse che possiamo mettere in campo. È appunto un momento delicato, ma credo che la luce è all'orizzonte. Noi come ente oggettivamente faremo tutto il possibile, ci metteremo proprio a disposizione fattiva e operativa per il rilancio del territorio. Questa funzione funzionerà? Direi di sì, anche perché è una fusione che rende sinergici due territori importanti, due territori che in qualche modo rappresentano circa il 70% anche del turismo regionale. Abbiamo dei numeri importanti anche a livello di industria, di commercio, e quindi credo che sarà una vera e propria sinergia quella che possiamo fare e tutto sommato la vedo molto positivamente questo passaggio. A breve il Consiglio della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia tornerà a riunirsi per l'elezione della Giunta Camerale che sarà costituita da cinque membri oltre alla Presidente Ballone. A seguito dell'accorpamento Teramo-L'Aquila, la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia opererà su 155 comuni per un totale di oltre 600.000 abitanti con 80.568 imprese iscritte. Il nuovo ente è tra più rappresentativi a livello nazionale per estensione territoriale ed è vigilato dal Ministero dello Sviluppo Economico.